Ma bella a tutti ragazzi, eccoci qua il giorno di video del Banu, oggi in questo un po' ritorno al passato perché non abbiamo il solito striscione dietro per cause di altri impegni, comunque siamo qua per parlare della finale di Supercoppa Italiana tra Lazio e Juventus che si è giocata in terra saudita, si è giocata in Arabia, a Riyadh e ha visto vincere la Lazio per 3-1, una prova incredibile dei giocatori di Nzaghi che hanno messo in crisi dal primo all'ultimo minuto i giocatori della Juventus salvo qualche sprazzo appunto juventino e un risultato a mio parere meritato. Andiamo a parlare passo per passo e poi trarre le conclusioni sia da parte della Lazio che da parte della Juve perché sicuramente sulla Juve c'è di più da parlare perché questa è una partita molto importante, bisogna dare segnali e non sono arrivati per la Juventus. Comunque, allora la Lazio parte subito meglio e infatti si porta in vantaggio grazie a una bellissima azione conclusasi poi grazie al tiro di Luis Alberto. Invece, poi la Juve inizia a ingranare meglio il gioco e arriva un tiro di Ronaldo, qualche occasione, un tiro di Ronaldo sulla respinta di Bala, segnalo 1-1. Nel secondo tempo la Juve non attacca pressoché mai ed è veramente preoccupante. La Lazio invece, cioè in realtà è una partita che non ha avuto neanche grandissima occasione la Lazio, però non ne ha avute proprio la Juve. La Lazio invece marcia un po' di più il gioco e arriva il 2-1 su un bel gol di Lulic su una spizzata di parolo. Il gol di Lulic in realtà da uno come Lulic non me lo sarei mai aspettato ma invece è un gol veramente molto bello. E poi, ultima, vabbè, poi sul fine della partita una punizione battuta splendidamente da Cataldi, veramente una punizione con i controfiocchi, una punizione straordinaria sull'altra ripetizione ma veramente un bellissimo calcio e arriva il 3-1 della Lazio che vince un altro trofeo, è l'unica che riesce a fermare la Juve sotto questo punto di vista e la sta mettendo veramente in crisi. La sta mettendo veramente in crisi perché appunto quest'anno ha perso due partite, la Juventus fino ad adesso le ha perse tutte e due contro la Lazio che sta giocando veramente un bel calcio, un bellissimo gruppo, quest'anno ne eravamo partiti fortissimi, hanno perso qualche punto ma ora iniziano recuperando a passo incredibile e infatti secondo me dopo oggi si candidano anche loro allo scudetto. Non tanto dopo la prima vittoria perché una può anche arrivare, sì c'è tanto lavoro ma poteva arrivare anche per, diciamo, anche fortuna per episodi come per esempio l'esposso in quadrato, mentre oggi di nuovo vincono, di nuovo giocano meglio della Juve e secondo me oggi in realtà si candidano veramente allo scudetto anche perché se il vincolo contro l'Ella si recupera sono solo a meno tre dalla vetta. Con tutto ancora il ritorno da giocare. Detto questo invece della Juve sono ben altri problemi e sono anche molto più grossi a mio parere perché il problema più grosso è uno, secondo me la squadra non è stata fatta sul pensiero di Sarri perché Sarri è sempre giocato col 4-3-3 e questa squadra un 4-3-3 non lo riesce a supportare. vuoi perché Ronaldo ormai non è più un'ala e perché gli uni giocano in poche parole con due punte fisse e non riescono mai a giocare col 4-3-3 perché alla fine Dybala va a far sempre il trequartista anche con questo fantomatico tridente che ha sempre richiesto cioè Wayne, Dybala, Ronaldo però non riescono a far nulla perché alla fine Dybala deve arretrarsi e fa fare comunque il trequartista e poi ci sono le due punte anzi forse è un modulo ancora più sfrontato e che impedisce un gioco più fluido e questo è un grande problema perciò risalendo a quello che ho detto inizialmente è che la Juve ha dei giocatori che però non sono funzionali al modulo dell'allenatore in generale sono stati fatti acquisti secondo me che con Sarri non riescono a rendere detto questo è il bello di tutto ci vediamo alla prossima